Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È il gennaio del 2016, ci troviamo a Oltrarno, la zona di Firenze posta sulla sponda sinistra del fiume Arno. È parte integrante del centro storico di Firenze e comprende rioni molto conosciuti come Santo Spirito. Ashley Olsen vive proprio in questo quartiere, in via Santa Monica. Ha 35 anni, è americana, viene dalla Florida, ma da circa due anni si è trasferita per stare accanto al padre che fa l'insegnante a Firenze. Il cadavere della donna senza vestiti e col volto livido viene scoperto nel primo pomeriggio di sabato 9 gennaio, alle 14, accanto alla porta di ingresso di casa. La morte, secondo gli inquirenti, non è però recentissima. Ashley è stata uccisa nelle ultime 48 ore. A trovare il corpo senza vita sono stati il fidanzato della donna, Federico Fiorentini, e la padrona di casa. L'uomo, un pittore quarantenne, fiorentino, non sentiva Ashley da circa tre giorni, perché i due avevano avuto una discussione. Federico l'ha chiamata più volte, ma la ragazza non ha mai risposto, così l'uomo ha deciso di contattare la proprietaria dell'appartamento di Ashley e insieme hanno aperto la porta di casa, scoprendo il cadavere. L'appartamento è al primo piano e le finestre si affacciano sulla strada, ma pare che nessuno abbia visto o sentito nulla, almeno per ora. Via dei serragli è molto vicina allo stabile, il rumore del traffico potrebbe avere coperto eventuali grida di aiuto. I segni sul collo della giovane fanno pensare che la morte non sia naturale. Gli accertamenti degli agenti della squadra mobile del medico legale, giunti con gli uomini della scientifica, tolgono ogni dubbio. La procura di Firenze apre un'inchiesta per omicidio, ma al momento non ci sono indagati. Ashley era impegnata nell'organizzazione di eventi culturali, viene descritta come una persona tranquilla, come il fidanzato. I due avevano una relazione da un paio di anni. La donna era abbastanza nota nel quartiere di Santo Spirito, la si vedeva spesso passeggiare nella zona col suo cane, un beagle, forse l'unico che ha assistito all'omicidio. Gli investigatori a questo punto cercano di capire chi è l'ultima persona ad aver visto Ashley viva. Per far questo vengono visionate anche le telecamere di sicurezza della zona. Il fidanzato, la proprietaria di casa, alcuni vicini a negozianti della zona vengono interrogati in questura per diverse ore. Il computer di Ashley è stato sequestrato dalla polizia postale, alla ricerca di indizi che potrebbero arrivare anche dall'autopsia, chiaramente. Nel frattempo alcuni amici di Ashley hanno raccontato di averla vista per l'ultima volta il venerdì precedente, tra le 2 e le 6 del mattino. È probabile che la ragazza sia stata uccisa proprio venerdì mattina, un giorno prima del ritrovamento. Proprio dalla mattina di venerdì 8 gennaio il cellulare della ragazza risulta muto, nessuna telefonata né in entrata né in uscita. L'ultima volta che la 35enne americana è stata vista viva è stato quindi nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 al Monte Carla, storico locale di Via De Bardi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere al vaglio minuzioso degli investigatori potrebbero chiaramente essere di grande aiuto. Anche per i commercianti che magari non la conoscevano bene, ma che avevano visto Ashley nel loro locale, è risultato difficile parlare di questa ragazza dolce. La cameriera di un locale accanto all'abitazione ha spiegato che all'ora di pranzo ha sentito arrivare un'ambulanza ed ha pensato che si fossero sentiti male alcuni dei loro clienti che erano corsi fuori. In realtà queste persone erano dei medici e sentita la sirena sono usciti per offrire aiuto. Purtroppo, come sappiamo, per la ragazza per cui era arrivata l'ambulanza era tardi. Invece la proprietaria del negozio per animali in Via Dardiglione, proprio all'angolo con Via Santa Monica, dove Ashley andava a comprare il cibo per il suo inseparabile cagnolino, palesemente scossa, ha preferito non parlare. Il fidanzato di Ashley, Federico Fiorentini, nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio torna a casa dopo aver passato molte ore in questura. I pareri dell'uomo sono un po' contrastanti, chi lo definisce geloso e possessivo e chi invece molto calmo. Pare che l'uomo abbia detto agli inquirenti di aver trovato Ashley nuda sul letto e di aver cercato di rianimarla. Per questo motivo l'ha spostata al centro della stanza e poi ha chiamato subito il 118. Per il momento la sua versione convince gli investigatori, che stanno controllando le telecamere e cercano informazioni sul venerdì sera che la ragazza ha trascorso nel locale Monte Carla di Via De Bardi. Dall'autopsia emerge che Ashley è stata strangolata, però non a mani nude, ma con una corda o una fascetta. Gli inquirenti fanno sapere che non ci sono elementi che portino a pensare a lotta o collutazione fra la giovane e il suo assassino. Inoltre la procura di Firenze ha disposto delle analisi chimico-tossicologiche. Saranno effettuati esami su alcuni campioni prelevati dal corpo della giovane donna per stabilire se ci sono stati rapporti intimi. I prelievi servono anche per l'eventuale estrazione di DNA da confrontare con il presunto assassino. Nel frattempo continuano le indagini della polizia. Ormai decine di persone sono state ascoltate dagli inquirenti della squadra mobile. Il computer della donna viene passato al setaccio in cerca di informazioni che potrebbero rivelarsi preziose. Il cellulare, invece, ancora non si trova. Arriviamo al 13 gennaio. Tre giorni dopo la scoperta del corpo di Ashley, arriva una svolta. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, incrociata con le testimonianze di alcuni frequentatori del locale notturno Monte Carla, hanno portato gli investigatori ad individuare un possibile sospettato. Sembra che la ragazza sia rientrata a casa all'alba di venerdì, 8 gennaio, con un uomo, col quale, stando a quanto emerge dall'autopsia, ci sarebbe stato un rapporto consensiente. Tra i momenti ipotizzati c'è sicuramente una reazione violenta, scatenata, per motivi ancora da chiarire. Non viene esclusa, peraltro, una pista collegata all'uso di sostanze o a un gioco intimo finito male. Inoltre, viene definitivamente chiarita la posizione del suo fidanzato italiano. Ha un alibi solido. Nel frattempo, l'autopsia conferma che l'omicidio potrebbe essere il risultato di un gioco intimo finito in tragedia. Ashley è stata strangolata con un cavetto USB. Nella notte di giovedì 14 gennaio, la polizia esegue un fermo per l'omicidio di Ashley. Si tratta di Sheikh Diou, cittadino senegalese di 27 anni, da pochi mesi in Italia, entrato nel paese clandestinamente. Gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato in Via Andrea del Castagno, dove vive dopo essere arrivato in città per ricongiungersi con il fratello. Nella casa, gli inquirenti hanno rinvenuto numerosi elementi potenzialmente utili al prosieguo delle indagini. L'uomo, sconosciuto fino a questo momento alla polizia, svolge l'attività di PR in alcune discoteche cittadine, tra cui il Monte Carla, dove ha incontrato Ashley. Il procuratore Giuseppe Creazzo, con il questore Micillo e il capo della mobile Giacinto Profazio, ha fornito alcuni chiarimenti sulla vicenda in attesa della convalida del fermo dell'indagato. L'accusa è di omicidio, delitto aggravato dalla minorata difesa e dalla crudeltà. Emerge però quasi immediatamente che il 27enne non è legato all'ambito degli stupefacenti, come era stato ipotizzato da alcuni quotidiani. L'uomo è nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida del GIP. Stando all'autopsia, oltre allo strangolamento, la vittima ha riportato due pesanti fratture al cranio. Si ipotizza quindi che il corpo sia stato sbattuto in qualche angolo della casa. Questo ha portato gli inquirenti a escludere l'ipotesi del gioco intimo sfociato in tragedia. È emerso che i due, dopo aver lasciato il locale, ripresi da una telecamera di sicurezza, sono rientrati a casa, ma non erano lucidi. Probabilmente avevano assunto alcolici, forse stupefacenti. Quindi avrebbero avuto un rapporto intimo. Dopo questo rapporto, stando al racconto del giovane, ascoltato per ore nella notte, sembra che Ashley abbia cercato di mandarlo via in maniera brusca, dicendogli che stava per arrivare il suo fidanzato. Dew, quindi, ha reagito esclamando «Non sono mica un cane!» per poi spingerla violentemente fino a procurarle un doppio trauma cranico. Il ventisettenne si è difeso davanti agli inquirenti dicendo «Sì, sono stato io, ma non volevo ucciderla». I segni di strangolamento, secondo Dew, sarebbero invece legati al fatto che avrebbe cercato di rialzarla. I riscontri del DNA si rivelano fondamentali per la svolta nel caso. Gli investigatori hanno recuperato, nello scarico del bagno della casa di Ashley, un preservativo e un mozzicone di sigaretta. I riscontri sui reperti, comparati con il prefilo genetico di Dew, hanno dato una certezza matematica. Inoltre, tracce di pelle dell'uomo sono state trovate sotto le unghie della 35enne. È stato risolto anche il giallo sul telefonino della vittima. Dew ha portato via il cellulare e ha inserito all'interno la sua scheda. A distanza di pochi giorni, si scopre che Dew, in preda al panico, è uscito pochissimo nei giorni precedenti al fermo. Il ventisettenne, infatti, già nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere, era stato ascoltato dagli investigatori come persona informata sui fatti. A quanto emerge, nel corso di questo primo colloquio in questura, aveva negato di aver mai incontrato Ashley. Affermava, infatti, di aver passato la serata nel locale Monte Carla, ma di essere poi tornato a casa così ubriaco da essersi sentito male per strada. L'ansia del faccia a faccia con i poliziotti, però, non lo ha fatto stare tranquillo. Per niente. Tanto che, pensate un po', ha telefonato a un conoscente, un macumbeiro, per tenere lontani i segugi della mobile fiorentina e sembra che abbia pagato il rituale una ventina di euro. Chiaramente Dew era tra i soggetti monitorati ed è stato inquadrato da una telecamera in compagnia della vittima, mentre arrivava con lei nei pressi di Santa Monica, dove è stato poi rinvenuto il corpo. In una ripresa si vede il ventisettenne in compagnia di Ashley, in giro per le strade di Santo Spirito. Ai video si aggiunge anche una testimonianza che, combinata ai riscontri del DNA, è risultata fondamentale per fermare Dew. Il codice genetico è stato estrapolato in tempi record, dalle sigarette Marchio Camel, le stesse fumate dal ventisettenne ritrovate in casa di Ashley. Arriviamo a venerdì 15 gennaio, quando si tiene il funerale di Ashley nella Basilica di Santo Spirito. All'interno della basilica sono presenti la famiglia di Ashley, il fidanzato e il suo cagnolino. In molti hanno portato dei fiori per dare l'ultimo saluto alla ragazza, alcuni hanno portato i loro cani, rimanendo però chiaramente fuori dalla basilica. Firenze Today riesce ad avere le dichiarazioni della padrona di casa di Ashley, la prima insieme al fidanzato a trovare il corpo della ragazza. La donna, con la voce rotta dal dolore, ha raccontato «Abbiamo scoperto il corpo, abbiamo provato a rianimarla fino all'arrivo del 118, dopodiché è stata nelle loro mani». Ashley era una ragazza piena di gioia, una persona normale che si è circondata da persone che le volevano bene. «Mi commuove vedere che ci siano così tante persone che la amano, che pensano ancora a lei, questo la tiene ancora un po' in vita nei nostri cuori. È uno sgomento che debba finire così male. Non me la scorderò mai». Arriviamo a sabato 16 gennaio, quando D.U. viene sottoposto all'interrogatorio di garanzia davanti al GIP. Risponde a tutte le domande alla presenza del suo legale, confermando di fatto la versione degli inquirenti. Chiarisce che il delitto non è stato premeditato, lui non voleva uccidere Ashley. Il GIP, di conseguenza, non può fare altro che convalidare il fermo. Contro l'uomo c'è un quadro indiziario grave e univoco e un concreto pericolo di fuga, dovuto soprattutto alla sua situazione di immigrato irregolare. Inoltre, secondo quanto sostenuto dal GIP, colpisce la mancanza di una presa di coscienza di quanto commesso e l'assenza di pentimento. L'assassino, tra l'altro, ha mentito sull'orario in cui ha lasciato l'appartamento di Via Santa Monaca. La tempistica è stata ricostruita grazie alle telecamere della zona che lo hanno ripreso e alle informazioni fornite dal tassista che lo ha caricato a bordo quella mattina. E questo è un altro elemento che rende sempre più difficile fare chiarezza sulla sua posizione. Ma le bugie non sono finite qui. Una riguarda la borsa di Ashley. Il ragazzo ha detto di non sapere che fine abbia fatto, ma i filmati lo riprendono proprio con quella borsa sotto braccio. Arriviamo a mercoledì 3 febbraio, quando vengono rimossi i sigilli dall'appartamento di Ashley. Martedì 9 febbraio, i suoi genitori e sua sorella rompono il silenzio. Viene diffusa dai legali e riportata da alcuni quotidiani una lettera con l'intento di fare chiarezza su quanto emerso agli occhi dell'opinione pubblica fino a questo momento. Gli Olsen vogliono prendere le distanze dalle tante inesattezze pubblicate da parte della stampa nel corso delle settimane precedenti. Desiderano raccontare la propria verità. Se non circa i fatti ancora poco chiari di quella sera, almeno su chi era veramente Ashley. Ecco qui la loro lettera. La nostra Ashley è sempre stata una donna piena di vita, con un'energia unica che toccava a tutti coloro che le stavano vicino. Quando entrava in una stanza riusciva subito a creare un clima di festa e di gioia e brillava di amore e buona volontà. Ashley era una figlia e sorella piena di amore, con uno spirito onesto, ci mancherà per sempre. Ashley era arrivata a Firenze con noi per la prima volta nel 2012 e subito si era innamorata della cultura e la gente di questa città affascinante. Quando poi era dovuta tornare negli Stati Uniti, si gli promise subito di tornare a Firenze per farne la sua casa. E così, dopo due anni di lavoro e di risparmi, era riuscita a rientrare in Italia nel giugno del 2014. Aveva realizzato il suo sogno di vivere la vita alla Fiorentina, dedicandosi alla sua passione per l'arte e la moda. Purtroppo i suoi sogni e ambizioni sono stati eliminati da un crimine assurdo. Fino ad oggi avevamo deciso di rimanere in silenzio, rispettosi nel nostro dolore del lavoro della polizia e delle indagini che stanno facendo. Ma alla fine abbiamo deciso di rompere il silenzio, perché le affermazioni messe in circolazione dall'indagato e da una parte della stampa avevano iniziato a dipingere un quadro di Ashley molto lontano dalla verità e a non rendere giustizia ai suoi valori e da ciò in cui lei ha sempre creduto. Purtroppo Ashley non c'è più per raccontarci gli eventi di quella serata. Solo chi era con lei sa la verità. Con le poche informazioni divulgate finora dalla polizia e finché le indagini sono ancora in corso, non è semplice fare luce sugli eventi di quella serata. Quello che sappiamo per certo è che nostra figlia era conosciuta come una persona fedele e monogama. Sappiamo che nei giorni prima della sua morte stava facendo una cura medica per una infezione del tratto urinario che le avrebbe impedito di avere rapporti intimi consenzienti. In aggiunta, se è vero, come dicono le autorità, che Ashley aveva bevuto e assunto altre sostanze che l'avevano resa non pienamente capace di intendere e di volere, allora deve dirsi chiaramente che qualsiasi tipo di rapporto avuto quella notte non sia stato consensuale. Quindi non è vero che ci fu un rapporto consenziente quella notte. Il fatto poi di aver trascorso le sue ultime ore in un locale pubblico piuttosto che un altro non le può essere imputato come una colpa o una macchia sulla sua personalità. È inaccettabile, offensivo e profondamente ingiusto pensare, come è stato insinuato, che se la sia quasi cercata per il semplice fatto di essersi fatta avvicinare da uno sconosciuto in quel locale. L'unica cosa che sappiamo per certo è che dopo la morte di Ashley, entrambi i suoi cellulari e vari altri beni di nostra figlia non si trovano più. Di questi fatti sono stati informati anche gli inquirenti. Per tutto il resto, per informazioni vere e realmente attendibili su quanto è avvenuto, crediamo sia giusto ed opportuno lasciare che la Polizia e Procura della Repubblica facciano il loro lavoro. Sebbene non possiamo far tornare in vita Ashley, possiamo mantenere in vita la sua eredità come persona gentile e dal cuore puro. Siamo grati per gli sforzi della Polizia, del nostro avvocato e di chi sta facendo le indagini e per la velocità in cui sono riuscita ad identificare un possibile responsabile. Abbiamo fiducia che le autorità ci forniranno le risposte che mancano senza farsi influenzare dalle affermazioni pubblicate dalla stampa, molte assolutamente infondate. Siamo sicuri che l'impegno delle forze dell'ordine ci permetterà di sapere ciò che è veramente accaduto quella sera orribile e che giustizia sarà fatta in fede Walter, Paula e Gabrielle. Arriviamo a maggio 2016. I risultati della perizia effettuata sul corpo di Ashley potrebbero mettere in dubbio la ricostruzione della procura e l'impianto di accusa nei confronti di Dew, accusato dell'omicidio e tuttora in carcere. Gli ultimi esami effettuati sul corpo di Ashley, infatti, indicherebbero la morte della giovane tra le 12 e le 12.30 di sabato 9 gennaio. A quell'ora Dew, come mostrano i fermi immagini delle telecamere della zona, era già fuori dall'apportamento di Via Santa Monica, dove il cadavere della ragazza è stato ritrovato nel pomeriggio. E dal momento che Ashley è morta per asfissia, una morte immediata, i legali di Dew chiederanno il provvedimento di scarcerazione e la ricerca, di nuovo attraverso le telecamere, di una possibile terza persona che abbia ucciso la ragazza nel tempo trascorso tra l'uscita del senegalese dall'appartamento, intorno alle 11.15, e il ritrovamento della ragazza da parte del fidanzato, intorno alle 14.30. Per la procura, però, la nuova ipotesi dei difensori del principale accusato non regge, e l'impianto accusatorio nei confronti di Sheik, Dew, rimane inalterato. Spetterà al giudice pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione. Secondo il pubblico ministero, Dew ha sempre mentito sulle sue responsabilità, su quanto accaduto nell'appartamento della donna. Per il PM, l'uomo è l'unico e solo responsabile della morte di Ashley. Giovedì 22 dicembre 2016, la Corte d'Assise di Firenze condanna Dew a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Ashley Olsen. Il giudice non ha riconosciuto l'aggravante della crudeltà. In aula per la sentenza c'erano tanti amici e conoscenti di Ashley, italiani e stranieri. Per Dew erano presenti il fratello e alcuni amici. Gli legali annunciano subito il ricorso in appello, e l'11 gennaio 2018, la Corte d'Assise d'Appello conferma la condanna a 30 anni per Sheikh Dew. Arriviamo a mercoledì 27 febbraio 2019. La Corte di Cassazione conferma i 30 anni di carcere per Sheikh Dew, respingendo il ricorso della difesa perché giudicato inammissibile. L'uomo è detenuto nel carcere di San Gimignano. I suoi difensori hanno basato il ricorso in Cassazione su due aspetti. La mancata perizia per stabilire l'esatto orario della morte e la richiesta di annullamento dell'aggravante dell'inferiorità fisica di Ashley Olsen rispetto al sassassino. Ma il terzo grado di giudizio ha respinto tutto. Detto questo, fatemi sapere se conoscevate questo caso. Io onestamente non la conoscevo e credo che Ashley fosse davvero una brava ragazza, una brava donna perché oramai aveva 35 anni. Però, insomma, mi sembra un'anima pura, davvero. E mi ha fatto molto piacere leggere quella lettera dei suoi genitori perché effettivamente abbiamo avuto la possibilità di capire un po' di più fosse Ashley, quale fosse il suo carattere. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.